Un dramma si è consumato ieri nel tardo pomeriggio da Tana Lucana, dove una bambina di soli otto mesi di origine pakistana, ospite insieme alla famiglia in un centro di accoglienza nella frazione Scalo, è stata ferita da una finestra caduta le addosso mentre dormiva. La neonata era stata adagiata dalla madre in una culletta per dormire nei pressi della finestra all'interno della casa. Subito dopo il terribile incidente. La finestra, presente vicino alla culla, forse per una folata di vento, si è staccata dai cardini ed è finita sul corpicino della bambina. In base alle ferite riportate e al referto del pronto soccorso, la finestra sarebbe caduta sul piccolo torace della pakistana. La mamma, stando alle prime ricostruzioni, ha subito allertato un'operatrice del centro Sprar che a sua volta ha chiamato un'ambulanza. Immediatamente la piccola è stata trasferita all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove il personale sanitario del pronto soccorso ha effettuato le prime cure per poi trasferirla nel reparto di rianimazione. Da qui la piccola pakistana è stata trasferita nell'esoccorso al Santo Buono di Napoli, in un reparto specializzato. Le condizioni della bimba sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. A Napoli la bambina è stata raggiunta dai genitori, ma anche dal personale della Caritas e della cooperativa che si occupa della gestione dello Sprar. Sulla dinamica dell'incidente, invece, a indagare sono i militari della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva.